Buonasera, bentrovati con il notiziario di prealpina.it che apriamo con la cronaca. È ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, il bambino di 9 anni che questa mattina assumi Rago in frazione di Quinzano è caduto dal balcone precipitando da un'altezza di 5 metri. Il bambino ha riportato un forte trauma cranico facciale, secondo una prima ricostruzione sarebbe salito su una poltrona e si sarebbe sporto per salutare un amico perdendo così l'equilibrio. Il bambino era a casa con la madre che dopo l'incidente accaduto appunto al figlio ha avuto un malore, la famiglia di origini pakistane abita in via Pozzi. Maggiori dettagli sul giornale ne dico la domani. E ho le dati comunicati poco fa dalla regione sull'emergenza Covid. Sono 4.483 nuovi positivi a fronte di 58.888 tamponi effettuati. L'indice di positività risale al 7,6%, ieri era al 6,9% e si registrano nelle ultime 24 ore 127 decessi. Si riducono però i ricoveri in terapia intensiva, 3 in meno, e i ricoveri negli altri reparti ospedalieri, c'è 210 in meno. In provincia di Varese, 501 nuovi casi. La provincia Varese è terza in questo momento come più colpita dal Covid dopo Milano e Brescia. E' sempre il tema di Covid. Il coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia, Guido Bertolaso, ha annunciato oggi che dal 12 aprile inizieranno le somministrazioni del vaccino per la popolazione con fascia di età dai 75 ai 79 anni. Le prenotazioni scatteranno da domani, verranno effettuati 35.000 vaccini al giorno e si conta di completare la prima vaccinazione per questa fascia di età entro il 26 aprile. Dal 15 aprile poi si aprirà la campagna vaccinale per i Lombardi dai 70 ai 74 anni, che sono complessivamente 566.000 in Lombardia. In questo caso la previsione è di completare la vaccinazione entro il 12 maggio. Da metà maggio inoltre sarà poi la volta degli over 60. Per quanto riguarda la popolazione invece dai 50 ai 60 anni, che è di oltre un milione e mezzo di abitanti di Lombardia. Le prenotazioni inizieranno a fine aprile e le somministrazioni dovrebbero prendere via tra il 19 maggio e il 10 giugno. Regione Lombardia ha inoltre ufficializzato l'indirizzo web, il numero verde, che da domani saranno accessibili per le prenotazioni. Sempre da domani le persone vulnerabili, i disabili e le persone che li assistono possono prenotare le vaccinazioni anche sul portale di Posti Italiani. E ora malpensa per un nuovo sequestro di droga effettuato dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane. Dopo la droga dello sciamano intercettata nei giorni scorsi, ora è toccato ad un carico di CAT, che è uno stupefacente che deriva dalle foglie di una pianta africana. Ne sono stati sequestrati 18 kg che erano custoditi nel bagaglio di un cittadino etiope proveniente da Addis Abeba. L'uomo scoperto si è giustificato dicendo che nel suo paese quella sostanza non è illegale. Lo è però in Italia in quanto classificata tra le sostanze stupefacenti. E concludiamo con lo sport, col calcio, serie D, le partite disputate oggi. La castellanzese frena a lavagna, 2-2 il punteggio e perde la testa della classifica. I neroverdi sotto di due reti all'intervallo hanno poi, scusate, agguantato il pareggio in due minuti a metà ripresa con i gol di Chessa e Ghilardi. Riscatto per il Legnano che batte 2-0 il Borgosiesia grazie ad una doppietta del bomber di riserva Breidic. Prezioso successo, poi salvezza per l'Alconatese mentre cade la Caronnese a Imperia. Ai box il Varese frenato dal Covid e dai controlli effettuati sono emerse tre nuovi casi di positività tra i Biancorossi. Infine Locke su Ghiaccio, i Mastini tornano in campo questa sera a Merano alle 20.30 per gara 3 delle semifinali play-off la serie su punteggio di 1-1. E con questo è tutto, vi diamo appuntamento al notiziario di domani alle ore 13. Una buona serata.